gentili telespettatori buona giornata calenda a di martedì da floris dice a bruno vespa non ti si può sentire non ti si può ascoltare perché perché bruno vespa è un meluniano bruno vespa è sempre stato un giornalista di destra parliamoci chiaro lui fa l'imparziale ma in realtà non lo è che dicevano gli inglesi il budino prima lo mangiamo e poi vediamo com'è facciamoli governare vediamo se sono competenti dice bruno vespa riferita riferito al governo meloni siamo a di martedì la 7 studio con giovanni floris si parla ovviamente del governo attuale che da 15 giorni si è insediato ma non è gratis la cosa non è che la cosa è gratis dice floris come dire vediamo se sono competenti ma la cosa non è gratis ma vespa di vespa dice ma abbi pazienza floris abbiamo dato credito a tutti non cresciamo da 30 anni abbiamo provato tutti siamo a zero quindi un minimo di credito a una persona nuova bisogna darglielo però siamo in un programma di sinistra con un conduttore di sinistra con ospiti di sinistra e ovviamente nessuno vuole dare credito a un governo meloni perché bisogna dire che fa schifo a priori a prescindere e vespa dice ma come abbiamo provato tutti abbiamo avuto il rischio anche di avere come premier di maio vi ricordate quando salvini ha detto no devi essere tu il premier ma ve lo sareste immaginato di maio presidente del consiglio ma dai abbiamo rischiato anche quello quindi abbiamo dato credito a tutti negli ultimi 30 anni tutti hanno provato a governare e ovviamente vespa dice beh insomma dobbiamo abbiate pazienza adesso proviamo anche loro è inutile dire mentre stanno facendo la prova dire che fa schifo e comunque vespa persona assolutamente corretta nel suo pensiero vespa poi riporta le parole di un tassista quando si vuol dire una cosa e farla dire a qualcun altro si tira fuori il tassista no il tassista mi ha detto sì vabbè vabbè cosa gli avrebbe detto questo fantomatico tassista ho votato per tutti e mi hanno deluso ora voto per lei la meloni e se non mi piace la prossima volta voto per un altro ancora è così arriva calenda dice bruno io te voglio bene ma non si può sentì è caro carlo calenda come non si può sentì vespa sta dicendo una cosa assolutamente sensata abbiamo provato tutti stiamo provando meloni se meloni non va bene poi magari proveremo te calenda questo voleva dire vespa perché il prossimo chi è se la meloni non funziona il prossimo è calenda matematico se la meloni non dovesse funzionare calenda le prossime elezioni c'ha il 25 per cento matematico la lega lotto la meloni torna all'otto 7 berlusconi al 4 ecco se la meloni non dovesse funzionare il prossimo è calenda ma lui dice bruno io te voglio bene te voglio bene assai te voglio bene ma non si può sentì non è che uno vota a prescindere dalla qualità delle proposte e dalla qualità delle persone stiamo andando avanti così dai 5 stelle a un certo punto non rimane il paese e si apre una voragine si calenda ma che cosa vuoi fare se i politici sono questi sono questi che vuoi fare conte letta speranza salvini berlusconi non ne parliamo se i politici sono questi si prova la meloni calenda anche quando lei avrà il 30 per cento un giorno se il centro-destra andrà male voi avrete il 30 per cento magari governerà lei e allora in una trasmissione televisiva diranno come carlo calenda no no non va bene e diranno di carlo calenda quello che oggi calenda dice della meloni non si può sentì quello che dici vespa ma il giornalista risponde io non credo che ci sarà nessuna voragine la meloni dice la differenza tra me e gli altri che io non ho niente da perdere la meloni dice ma mi interessa essere riconfermata io faccio quello che devo fare a testa alta faccio quello che devo fare mi riconfermano bene non mi riconfermano arrivederci grazie ma calenda insiste lei no il paese sì però bruno come si fa a dire una cosa del genere perché calenda dice la meloni non ha niente da perdere ma il paese ce l'ha da perdere calenda poi dice lei ha il diritto il divero di governare io non la criticherò mai per ragioni pregiudiziali però dire guardate abbiamo provato tutti proviamo pure lei è una roba che riassume il perché noi stiamo andando aramengo 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 stiamo andando aramengo pensiamo che la politica sia il grande fratello ma molti l'hanno votata per questo altri per convinzioni altri non sono andati a votare vediamo cosa riesce a fare dice vespa alla fine è un discorso sensato quello di vespa calenda dice vabbè ma cosa vuol dire proviamo anche lei sì ma calenda qual era l'alternativa provare calenda no sì calenda dice la meloni no dovevate provare me non lo dice ma lo pensa calenda allora credo che lui possa prendere il posto di tutta la sinistra credo che calenda sarà il leader del sinistra ma non giuseppe conti il giuseppi ecco se il giuseppi sarà il leader della sinistra la sinistra continuerà come adesso niente vuoto assoluto perché conte continua con la tiritera di letta ecco lui è anti tutto quello che dice il centro destra così non si va avanti credo che la cosa migliore per il centro sinistra sia calenda che oggi all'otto per cento tra l'otto e il nove per cento ma è conte va a gonfie vele perché con lui all'interno c'è il voto di scambio del reddito di cittadinanza che è potentissimo quel voto di scambio ci sono attenzione che dagli ultimi dati dell'istat ci sono quasi quattro milioni di persone che prendono reddito 3 milioni e 700 persone che prendono il reddito 3 milioni e 700 su 50 milioni di votanti vuol dire il 7 per cento il 7 per cento se ci mettete che il movimento 5 stelle ha il 16 togliete il 7 il movimento 5 stelle avrebbe l'otto per cento ma attenzione non sono solo quelli che prendono il reddito a votare per il movimento 5 stelle ci sono anche i familiari che votano per conte perché il se no il loro familiare perde il reddito e quindi capite che la maggior parte del voto che arriva a giuseppe è appunto derivante dal voto di scambio imponente che carlo calenda non ha se carlo calenda fosse stato l'ideatore del reddito di cittadinanza avrebbe il 20 per cento sarebbe il secondo partito grazie a tutti e arrivederci